Dopo Pesaro incontriamo Andrea Martignoni al Lago Film Fest perché è importante parlare dell'animazione italiana, di come comunque sta avendo una bella evoluzione, anche se si continua a parlare di cinema di nicchia, se si continua a parlare di un cinema tra virgolette povero, un'evoluzione c'è. E anche Savona che sta iniziando un nuovo lavoro in collaborazione con molti animatori italiani forse lo dimostra. Direi di sì, direi che c'è un aumento di produttività, probabilmente soprattutto un aumento di comunicazione sia interna fra gli autori e il convegno a Pesaro all'attere del festival ne è un po' la dimostrazione e anche il libro curato da Di Marino a cui ho contribuito con un saggio e due interviste, diciamo ci dice qualcosa di quello che sta succedendo, c'è maggiore attenzione probabilmente, è un momento di buona vitalità, la comunicazione è aiutata in parte anche dalla rete, è un pochino più accurata, di fatto da quattro anni abbiamo cominciato io con Paola Bristotta a collezionare film da proporre in DVD, cosa che non era mai stata fatta prima a parte i classici Gianni Luzzati e Cavandoli e Bozzetto e c'è stata anche una risposta, stiamo parlando sempre di cose, di cifre, di numeri molto bassi, ma c'è stata una risposta di attenzione dal punto di vista internazionale e diverse volte ho proposto ai festival di fare retrospettive sull'animazione italiana utilizzando proprio i lavori che erano compresi in quelle compilation che sono al 90% formati da lavori contemporanei come degli ultimi due o tre anni, ora stiamo preparando il terzo DVD e quindi vuol dire che tutto sta andando abbastanza bene. Ecco proprio perché tu fai un lavoro di ricerca importante per realizzare questi DVD, raccontaci che cosa hai visto cambiare? Quello che ho visto cambiare è stato che intanto probabilmente cambia il fatto che quando cominci a prestare attenzione a delle cose le scopri, altrimenti rimangono nascoste sotto vari tipi di lenzuoli e credo che il fatto di aver realizzato queste ricerche porta a essere in contatto con la persona e quello che mi piace è che poi le persone si mettano in contatto tra di loro, quindi possono e sono nate delle collaborazioni anche solo a livello di consigliami come devo fare per fare quella cosa o quell'altra, per cui il vecchio fra virgolette animatore con molta esperienza come Michele Bernardi può fornire indicazioni su tecniche e altre cose al giovane animatore che è magari Marco Cappellacci che ha studiato a Urbino ma che ha 24 anni, quindi questa è una cosa interessante, importante secondo me che ci sia molta comunicazione e uno spirito di collaborazione senza andare sui personalismi estetici, ognuno poi fa la sua strada ovviamente, però una disponibilità all'aiuto, alla chiacchiera e alla comunicazione fra i progetti credo che sia molto importante. In questo senso la cosa che sta facendo appunto la produzione di questo documentario che prevede 40 minuti forse o 35, vedremo poi alla fine, di animazione è chiaro che mette in campo un'estetica, Savona voleva l'estetica di Simone Massi e quindi anche un certo tipo di tecnica che è una tecnica molto manuale comunque e quindi pretendeva anche un supporto di animatori a cui non siamo abituati in Italia a lavorare in equipe per grosse produzioni ma mantenendo sempre questa artigianalità giustamente Simone si è rivolto fra l'altro al femminile, questa è anche una cosa interessante e caratteristica, a quello che è poi il parco animatrici uscito dalla scuola del libro dell'animazione di Urbino e sono personaggi di altissima qualità anche molto ben conosciuti come Magda Guidi, Alessia Travaglini, Maracerri, Virginia Mori e via dicendo.